buongiorno a tutti i vedi brutti un bacione da michelone d'agosto michelone che è brutto mi hanno detto che sono brutto mi hanno detto ovviamente uno sfinterista no un merdazzurro un prescritto cartonato parsaportato mi hanno detto che non sono John Wayne col cavallo però non mi pare essere proprio brutto 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 no ma penso di cavarmela no sulla media no si vede che non si avrà mai guardato lo specchio lui no vabbè ma c'è ma non è che ci sono rimasto male ma che cazzo ma che cazzo vieni a sul canale a scrivere quelle cagate lì no perché non sanno che cazzo scrivere no offendono sono una roba sui short questo qui è perché sui video non tanto non ogni tanto c'è il coglionazzo di turno ma sugli short vengono tanto perché gli short sono molto più seguiti no tutti quanti l'ora no e ogni tanto perché non vado a vedere i commenti sugli short perché sarebbe vado ogni proprio ogni tanto che cazzo di questa roba e se vedo i commenti no tutti prescritti di merda no cattivi cattivi come la merda perché sono cattivi come la merda e vedo sto commento qua e ci sono mi veniva da ridere mi ha detto che sono brutto e pazienza a sarei bello tua sarei bello tu tua madre tuo padre quelli che saranno sarete belli voi a cosa vuoi che ti dico l'importante è essere belli dentro qua e io penso di esserlo penso di esserlo tu no tu no e insomma l'italia vince a me non fare un cazzo proprio non me ne frega un cazzo vedo che che certi hanno fatto il video certi tanti hanno fatto il video così per fare non non gliene frega un cazzo neanche all'or dell'italia a me semplicemente non non trovo nessuna attrazione io per questa italia qua nessuna c'è nome sapete che non me ne frega proprio un cazzo e sono indifferente guardate che essere indifferente è peggio è che come dire sta c'è una cosa vista sul cazzo è peggio essere indifferente vuol dire che proprio neanche non la cagli e io la nazionale proprio neanche non la cago c'è una roba che non 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 mi interessa non mi interessa proprio è a me rompi i coglioni che queste due settimane sono qui a girarmi i ditti parlare parlare di 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 robe e di robe possibili che poi che potrebbero succedere di calcio mercato viene quello viene collato viene stato il 90 il 99 per cento di questi qua non arrivano perché di tutto quello che parliamo quello che succede sarà l'un per cento l'un per cento dove facciamo due tre per cento e e ci manca la juventus perché ci manca la juventus almeno almeno d'estate dico lavoro lo faccio passare il tempo poi li accazzeggiamo poi cacciò mercato sai che è così no e però d'inverno veramente questa è la terza sosta della nazionale porca puttana veramente veramente dopo e fino a marzo meno male che dopo non ce n'è più abbiamo adesso abbiamo quando ricomincia è tutto un tiro fino ai primi di marzo finalmente fuori dalle balle perché veramente non ho e c'è sei partite blocca sei partite blocca sei partite blocca sei partite blocca poi sentivo il video del sergio a me fa ridere il sergio ogni tanto vado vado vederlo perché il sergio il sergio è sempre il sergio ragazzi il sergio è uno di noi va rispettato perché è una persona che co è com'è però le cose le dice e sono vere quello che dice lui sia vera sempre sia vera sempre e parlava di questi due giocatori che avevano preso di bremer e cabal che erano tutti due giocatori che dovevano andare l'inter vedete che che solo questi due giocatori al pensiero di andare lì che dovevano andare lì si sono rotti è cabala questa è questa è cabala è destino se fossero andati lì magari si sarebbero rotti lì o non credo perché lì c'erano un culo della madonna quindi peccato adesso il ragazzo è sotto i ferri e il ragazzo sotto i ferri lo stanno operando ovviamente è crociato rotto e adesso lì bisogna andare su serio e deve fare un lavoro molto delicato giuntoli perché perché se c'è da prendere un giocatore è un conto ma qui ne devi prendere ne devi prendere tre dei giocatori perché devi perché due dietro davanti io non lo so quel milic lì per me quello lì è in partenza per me quello lì è in partenza perché che cazzo te ne fai di quello là saluta ragazzi bevo a proposito buona colazione buongiorno a tutti belli e brutti un da michelono buongiorno michelone e da jj ogni tanto mi ricordo è da jj e iscrivetevi al canale perché come dicevo una volta un iscritto al giorno toglie il medico di torno ve la ricordate l'inizio ringrazio anche l'utente che ieri mi sono sentito che ha detto che mi seguiva da quando avevo cento iscritti al canale ti ringrazio guarda ti ringrazio per questo canale piccolo per meglio io dirò sempre vi ringrazierò sempre perché quelli che mi seguono per me tanta roba vi voglio bene io continuo a dire che nel nostro piccolo siamo un gruppetto che ci vogliamo bene vedo che abbiamo i numeri di telefono interagiamo whatsapp scriviamo è venita nella live parliamo nel senso ma nel nostro piccolo a me interessa quello non mi interessa di avere teste di cazzo dentro pochi ma buoni pochi ma buoni volevo fare anche una 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 chat di juventini cosa ne dite un whatsapp di juventini un gruppo lì come fanno tanti no così magari interagita anche la si parla di juve e no di cazzate solo di calcio solo di juve vi averto subito volevo fare una roba del genere vediamo 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 ribevo se no si raffredda insomma non 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 tanto non c'è da dire adesso spuntata fuori questo questo nuovo nuovo nome che era già un po che circolava però questo zirchie questo zirchie che era forte mi ricordo era molto forte al milan noi era del bologna era forte calafiori ma purtroppo quello ce lo siamo fatti scappare se avessimo avuto almeno lui porca di una puttana e ma se fosse arrivato lui non sarebbe arrivato calulu ragazzi quindi tra una roba e l'altra alla fine alla fine forse c'è questo zirchie dicono che che a a manchester addirittura sta scaldando la 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 il seggiolino come chiesa sta scaldando il seggiolino lì a liverpool avete visto chiesa avete visto chiesa che schifo sta facendo a liverpool niente non lo cadano è che è che sta scaldando tutti tutti seggiolini delle delle della tribuna il grande chiesa il grande chiesa e non è semplice ragazzi spesso soprattutto andare a giocare in premia perché campionato campionato più secondo me il campionato più bello del mondo ma il campionato anche più diverso al mondo da quello italiano quindi ed ora è andare lì ragazzi tutti quelli italiani che sono nati li hanno tutti fallito è qui qui due lì che sono ce li hanno ritornati indietro lì scamacca poi quell'altro tonali non lo so tonali tonali non so niente di lui non ho notizie per nascontato la squalifica dovrebbe essere in campo non lo so come gioca con il newcastle non ho idea andrò a vedere andrò a vedere andrò a informarmi e vedremo a con questo questo calcio è ancora lontano ancora lontano si parlava ripeto di svincolati ma svincolati ce ne sono ripeto quello che dicevo ieri in in live di svincolati ce ne sono una caterba sopra i 30 anni e non puoi prendere quella gente la e poi ce ne sono pochi sotto i 30 anni ma se tu prendi uno svincolato questi qua non è che sono semi vengono qui ti fanno quattro mesi cinque poi vanno via ti chiedono almeno un anno e questi mesi restanti di contratto quindi devi fargli ancora è difficile la situazione è difficile veramente almeno se avessimo una next gen coi contro coglioni invece questa next gen sta facendo cagare cagare e non puoi neanche prenderli tanti giocatori alla next gen lì perché sono talmente nella merda che devono risalire alla classifica quindi non puoi neanche andare tanto no è dura e dura questo è dura e dura e dura e dura e dura e dura a meno che non c'è non vai a prendere proprio a comprare che qui a gennaio da qualche squadra italiana e che non vai a comprarlo direttamente te ne fai una ragione punti su quello lì e poi magari se va va se non lo rivendi ne compri uno magari non so facciamo un caso l'udinese ti interessa quello è vai lì lo compri e vaffanculo è come va va qualcosa devi fare perché non puoi non puoi stare con contatti dietro ragazzi siamo contatti dietro e di là ci abbiamo solo cambiasso di qua ci abbiamo solo e coso li savona in mezzo abbiamo solo gatti e calulu e poi c'è danilo danilo porca miseria avete visto io continuerò a dirlo sempre che non dovevamo vendere rugani adesso addirittura parlano di drago di tra così un ritorno di drago si ma drago si è ormai stato venduto non so adesso cominciano a venire fuori nomi 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 a meno non 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 solo non sono lo so cosa dirvi ragazzi questo l'indel of l'indel of che è un coso un nome serio che hanno messo ma io quelli lì quei giocatori di io dal manchester non prenderei nessuno dal manchester united perché lì sono tutti giocatori rovinati tipo stile psg psd a manchester non prenderei mai giocatori da quelle due squadre lì mai 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 perché lì vanno lì si rovinano questo screen era anche che ne parlano tanto siete sicuri che questo screen era ancora buono di giocare a calcio non dico che abbia la resa che sia buono di giocare a calcio siete sicuri perché poi per trovare una punta una punta anche la trovi ma è un centrocampista magari mette una toppa ma trovare difensori bravi 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 e soprattutto centrali bravi è difficile ragazzi è difficile a dispiace perché avevamo trovato dietro una quadra con bremer calulu e gatti lì impressionante non passava uno è non passava uno non passava una palla ea me dispiace perché poi poi alla fine fai campionati fai campionati che non sono all'altezza della juventus perché quando hai 67 giocatori di media fuori speriamo adesso di recuperare meno quei due lì nulla facenti di nico gonzales è di e soprattutto quell'altro perché quell'altro voglio vedere voglio vedere in campo con tutto quello che è costato anche e quelli taglias luisi voglio vedere quelli quelli in campo almeno che cerchino di dare quello che non stanno dando adesso no perché bremer è una disgrazia caballo una disgrazia mili che purtroppo era da dare via da dare via subito mili che era era da dare via non aspettare che che sia a settembre che si mettesse a posto perché quelli lì ormai sono giocatori finiti e mi ripeto per mili che dispiace ma anche danilo danilo ti voglio bene ma anche tu ormai c'è un giocatore giocatore proprio niente sennò devi come 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 parlavamo ieri di adattare se ti mancano mckenny terzino destro locatelli difesa se succede qualcosa e coppomayers lì sulla sinistra che ha detto devi adattare qualcuno tanto a centrocampo ce li abbiamo no ce li dovremmo avere no ce li dovremmo avere e fai di necessità virtù come si dice no è dura e dura e dura e dura tutte le squadre hanno un po di questi problemi solo quelli l'acus solo quelli l'anno uno sti problemi io non lo so se quelli veramente quando gira 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 la ruota gira no la ruota gira e hanno ancora questa ruota che gira a loro favore no su certe cose no poi arrivano gli arriveranno anche gli anni che non girerà più a loro favore no speriamo che che si che si che si muova questa ruota non girano perché da loro non si infortuna mai nessuno c'è sì ogni tanto uno così sta fuori un paio di settimane ma non è che ne risentono perché c'è nei ricambi sono una squadra quadrata e ladra e ladra perché sono quadrati ma ladri no vedremo vedremo questo zirchie zirchie vedremo ormai nomi qui se ne fanno tanti perché adesso ripeto pausa nazionali che cazzo parli di calcio mercato o sino parli di quelli là che ne parleremo del prossimo video ma che schifo ma ciao ma che roba ma che roba che roba di gravina cosa ho sentito io perché tanto gravina interessa fa parte di quella di quelle di quella schifezza lì di quel gruppo a schifezza no quindi ma che roba ma che porcaria parliamo dopo ragazzi parliamo dopo se il video diventa troppo lungo iscrizione al canale lei campanellina mi raccomando sempre bacione a tutti i bagli e brutti mi raccomando chi vuole la magliette come queste subito sia boni sia boni e può succedere di tutto questa qui sto pensando di metterla all'asta non lo so non lo so sono tentato ma dopo io lo so che mi pentisco mi pentisco vedremo vedremo ci vediamo il prossimo video qui abbiamo parlato un po' di in generale di calciomercato così dobbiamo fare un po' cazzeggiato no e nel prossimo video parliamo delle porcherie delle porcherie che è una cosa curioso sentito cose curio cose curiose ciao ragazzi ciao